Sono i miei figli, i voti, le mie squadre che stanno per fare il nuovo regresso in capo! E allora, e a sentire subito, il giovane ci va! Tutti insieme, suoi! Alla centro della taglia di gioco, le vado a venire in questa sfida! Attenzione, prima della presentazione ufficiale della gara, l'esecuzione del lito nazionale italiano!